Hanno dei legami indiscidibili dove il Corpioni potranno e gli altri utilizzano, tanto è vero che all'interno della Corpioni c'è il figlio di qualche dirigente. E allora cosa fanno? Cosa hanno fatto la persona della Corpioni? La Corpioni voleva eliminare il scuola, ha fatto il cambio di cooperativa. Cittadini di Perno, ascoltate perché siamo qua. Ma siamo qua per dire queste cose. Hanno fatto il cambio di cooperativa per eliminare i diritti, i diritti di questi lavoratori. Il quarto livello, il mantenimento degli organici, ma soprattutto non viene detto che applicavano i Geopax. I Geopax dopo che la Corpioni ha presentato i 5-6-7 anni, gli applicavano i Geopax per aver migliorato leggi e fatto la resi, il negozio di un 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 negozio. I sindaci, i sindaci, i sindaci generali, lo sono passi. No! Non abbiamo fatto il tempo, ma abbiamo rispeinnato tutto. Sì! Non abbiamo rispeinnato il Ronaldo relente al Nacango. Questo è il punto di modalità. Inoltre, Controli. Per 1.2 ciento euro. Resteri a essere grafici di euro. Buona la parola. Grazie per la visione!